Che fai? Eh, ho chiesto a una di uscire, ma non mi sta cagando Ma si che ti sta scrivendo, scusa, sei tu che non la caghi? No, ma quella è un'altra, ora le scrivo per l'1% così non mi rompe più, anzi non le scrivo proprio Beh, il karma, lei scrive a te, tu visualizzi, ma non rispondi, rispondi a un'altra, l'altra visualizza e risponde a un'altra ancora Che probabilmente visualizzerà, magari rispondendo a quella che scrive proprio a te, è una ruota che gira E allora cosa devo fare? Risponderle, cazzo, cioè mi chiedo sempre cosa c'avete nella testa voi che visualizzate senza rispondere Guardate quello che vi hanno scritto, ma vi tira al culo scrivere, quindi non lo fate Come se io vado al ristorante, mangio, poi mi tira al culo pagare, quindi non lo faccio Cioè, non ti sembra un discorso logico? È chiaro che il karma prima o poi ti punisce, è matematico, ti consiglio di rifletterci Buon pomeriggio Sì, vabbè, te il karma, buon pomeriggio I can feel my face when I'm with you I can feel my face, but I love it But I love it But I love it Oh, I love it Oh, I love it